Ennesima truffa online, nei guai un uomo di 44 anni e una donna di 30, entrambi della provincia di Brescia, conosciuti dalle forze dell'ordine. I carabinieri di Pieve del Grappa li hanno individuati e denunciati, i due avevano messo in vendita sul web una console da gioco PlayStation 4. Sono quindi stati interpellati da un operaio di Pieve che ha deciso di fare l'acquisto, ha versato sul conto corrente bancario della coppia 180 euro, ma della console neanche l'ombra. Inutile contattare i venditori che nel frattempo si erano dileguati.